È passato l'accordo definito a suo tempo storico dall'amministratore delegato di ACTV Giovanni Seno fra l'azienda e i sindacati. Il referendum ha però visto una stretta maggioranza di soli 5 voti che comunque legittima ora i vertici dell'azienda di trasporto ad andare avanti, non senza qualche preoccupazione visto che quasi la metà dei lavoratori questo accordo ha votato per impedirlo. Comunque soddisfatto, Seno ha ringraziato le organizzazioni sindacali per l'impegno, la serietà e il coraggio dimostrato in un momento non semplice della vita aziendale. Ora vi è molto lavoro da fare, prosegue, ma sono convinto che con la buona volontà, la partecipazione e l'impegno di tutti riusciremo a raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati. Soddisfatto anche l'assessore alla mobilità Ugo Bergamo, consapevole del problema della strettissima maggioranza con la quale però l'azienda può risollevarsi e ripartire. Soddisfatti anche i sindacati che ora avranno comunque il difficile compito di ricompattare i lavoratori certo preoccupati per le sorti dell'azienda e per i prossimi cambiamenti.